Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. Oggi vi voglio consigliare un programma che ci aiuta a rimuovere i bordi laterali neri su alcuni giochi. Non so voi, ma a me è capitato che scaricando alcuni giochi abbastanza vecchi non si poteva fare ben altro che sopportare questi bordi neri, proprio perché il gioco non supportava il full screen, quindi comunque è lo schermo intero che togliesse anche i bordi laterali neri. Questo fenomeno è soprattutto presente nei giochi più vecchi. Vediamo quindi come rimuovere questi bordi neri. Non vi dico su tutti i giochi, ma come vi dicevo prima, solo su una parte. Vi lascio il link in descrizione per scaricare i file che ci interessano. Una volta che cliccherete sul sito, dobbiamo semplicemente cliccare su Download this file e aspettare 15 secondi, dopodiché automaticamente vi scaricherà un pacchetto. Questo pacchetto lo andremo ad estrarre con un tasto destro, estrai qui se avete Winrar, poi andremo ad aprire la cartella e semplicemente avvieremo widescreen fixer applicazione. A questo punto vi appare questo ragazzi, che è in sé il programma con i giochi presenti che si possono appunto modificare togliendo i bordi neri. Come vi dicevo ci sono alcuni giochi, non tutti, però comunque i più popolari. Potrete tranquillamente mettere pausa a questo video se volete appunto guardare con calma la lista. Poi nel caso ci fosse il gioco a cui vi interessa togliere i bordi neri, semplicemente ci cliccate sopra, avviate il gioco e automaticamente i bordi neri verranno rimossi. L'importante è che voi non chiudete mai questo programma, ma al massimo lo iconizzate, in modo che possa funzionare di nascosto. Poi nel momento in cui lo vorrete chiudere perché magari non vi servirà più, dovete andare sul triangolino in basso, quindi mostre con le nascoste e chiuderlo attraverso la sua icona, tasto destro, exit. Quindi in sintesi, ogni volta che vorrete giocare senza questi fastidiosi bordi, dovrete avviare prima il programma di widescreen fixer. Il mio consiglio è di tenerlo sul desktop perché è molto più comodo e veloce nel momento in cui ci serve. Io spero che questo video vi è stato d'aiuto, se si lasciate un like, ciao e alla prossima da MeriLight.